Buonasera dalla redazione di Firenze Smart in studio, Marco Gargini. Iniziamo dalla 1 dove in direzione Bologna si segnalano codi attratti per il traffico intenso tra Calenzano, Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico, Baccheraia. In direzione Roma sul versante Emiliano rallentamenti sulla direttissima tra il bivio con la variante di Valico, la Querce e Badia e sulla panoramica tra il bivio con la variante di Valico, la Quercia e Pian del Voglio. In A11 code per traffico intenso tra la barriera di Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Sulla Fipilì in direzione Mare code in uscita alla Strassigna provenendo da Firenze e code per un veicolo fermo in avaria al chilometro 7 tra Firenze Scandicci e Ginestra Fiorentina. Rallentamenti tra la Strassigna e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Ed è tutto, buon viaggio! Grazie a tutti!